musica 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 son you c musica Versa contro seconda, sì. E la prima chi è, scusa? La prima è la Roma, sì. Quindi siamo qui. Lui ha cambiato la visuale, va bene. Ce la teniamo. Ma hai detto, lascia tutto. Comunque io sono la Juve, perché lui non può vedere la Juve, quindi la dovranno io, insomma. Tocca a me l'incombenza. Però, vabbè. Ti fai Juve, Juve Torino, vai, vai, Juve, puoi vincere, vai, Juve. Infatti è Torino una merda, mortacci loro. Oddio! Mamma mia, che cazzo fai? Finalmente è una sfida da Pari, dopo il Verona, Inter e il Verona. Non ho capito, è che vuoi, non mi fai. L'ha fatto prendere la Lazio contro la Roma. Quella mancherà. Beh, la stessa cosa. La Lazio è scandagosa. Lascia verde. Pogba? Pogba. Attenzione, parla per la Samoa. Rientra Samoa. E evita il calcio d'amore. C'è Pepe sale. Grandissimo Mertens. L'apertura per nessuno. Mamma mia, che cosa ha intercettato? Miller. Maggio. Mettiamo lo stadio come un bomba. Caglio. Che hai detto, scusa? Caglion. Perché è più bello. Sì, se non c'è Caglion, almeno, non lo so. Caglion. Caglion. Ancora Caglion. No, che fai? Lui è l'uomo che stroppia i nomi. Il stroppia dei nomi a tutti. Non è la stroppia. In romano si dice stroppia. T'ha precisito il cazzo di merda. Ah, che vuoi? Mi dice che stroppia i nomi e poi è il cazzo del merda. Attenzione, parla per Tevez. Non si è altro. Tevez. Tevez non va. Fernandez. Grandissimo difensore del Napoli. Oh, Iguain. Per Caglion. Miller che si mette in mezzo alle palle. Guarda, ci sono. Perché ho messo due lasciate le mani? Che cazzo fai, Buffon? Ah, oh, Buffon. Niente, Buffon che ha giocato l'X. Caglion. Iguain. Che cazzo. Mazza quanto sono lenti, oh. Una cosa impressionante. Pirlo che stava fuori. Ha dovuto mettere. Ah, ma perché questa ha giocato l'uomo di formazione, il Pirlo. Sì, infatti io fa schifo. Cioè, io fa schifo, perché sto periodo sta un po' a fa schifo. Che tevezza. Ma magari ti puoi... Dove era il fuorigioco? Ci conviene che perda. Io no, Napoli. Sì, conviene che perda Napoli. Alla fine. Oh, cazzo. Uh, no. Mamma mia. Amsic. Amsic! Una a zero Napoli. Una a zero Napoli. Xenic è tornato a rompere il culo a Daryl. Mamma mia. Diciassette Amsic, diciassettesimo minuto. Che più... Xenic, diciassette. Grande, grande. È la mia partita, è la mia partita. Vai così. Puffon. Adesso il nostro canale vi trarà un canale di Maghi che darà i numeri all'otto. Diciassette alle diciassette alle sette e sette. Comunque l'altra volta mi ha azzeccato il risultato. Io direi che questa volta possiamo anche giocarcelo. Io direi che devi pareggia 1 a 1 a sto punto, allora. No. Così ci fa comodo. A te ti fa comodo. Eh, vuoi a me. Oddio. Non va. Oddio. Che culo. Oddio. Che cosa stiamo facendo? Oddio. Odde Calarus. Caillon. No, per fortuna. L'ho scampata. L'avventura per Imoin. Che cazzo. Ok, da adesso fino al novantesimo non andrà fuori la palla. Possesso palla. Vale, famo Melina così mi mette dal giallo. Uh. Ancora Inler. Ragazzi, Tevez. Grande acquisto. Mi stavo sul cazzo. Ho capito? Però non potete fare questi passaggi scattati. Uh, ma Tevez mi ha rottuto quasi il cazzo, eh. Devi pia una palla. Mamma mia. Porca madonna ladra. Scusate. Vai Vucinic. Vai Vucinic. Quei dribbling. Vucinic. Manco gioca. Asamoah. O Asamoah. Uh. O Asamoah è il mio è il campo per ora. Che interesse. Ragazzi, solo la Juve c'è il campo. Sì, sì, solo la Juve. Come dici? Solo la Juve. Solo la Juve. Il campo solo la Juve. Mamma mia. Questo per me è il ventino d'intro. Sì. Una cifra. Fa finta d'essere un'unica. Ha 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 ha. Bella questa. Uh. Chi è? Ma a quest'ora, ma che cazzo può essere? Mamma mia. Abbiamo svelato anche che è notte. Pirlo. Pirlo. Pirlo non va. Sì, stiamo... Era ieri notte, per niente, quando abbiamo registrato. Esatto. Era... È brutto parlare al passato quando sei... Quando sei presente. Sì, è veramente torbendo. Oddio. Oddio. Eh no, eh. Eh no, eh. Eh no, eh. Mamma mia. Eh no, mamma mia. Che Napoli, che Napoli, ragazzi. Che Napoli. Che Napoli. Che Napoli che sei. Che Napoli. Sì, Mertens, Mertens, la palla per Higuaín. Higuaín non va. Dai, non fai schifo, fai. Ma che vuoi? Ma ammazza, faccio schifo. T'ho preso quei due palloni che non lo sai manco di come ho fatto. Ma che cosa hai fatto? Uh. Amsic, l'apertura di nuovo. Ma Higuaín, prende il pallone, Higuaín. Porca madre. Prende il pallone. Che palle. Vai, vai. Vai, impegniamoci, eh. Ragazzi, niente cali di concentrazione. Caio e Rupa. Comunque, bella partita qui. Raccomando, occhio. Sta parlando il ritratto della faccia pulita proprio. Senti. Noi siamo pulitissimi. Ma chi arbitra? Come no zi. Eh, come... Come... Niente. Sì, sei conservevole di chi arbitra. Ah, questo è il giallo di tanto tempo fa, quello là che non è mai più uscito il pallone. Avete? Se era quella. Se era quello. Ma se ne è mai uscita la palla. Palla e mezzo. Oh, 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 oh. Reina, subito. Oh, oh, oh. Attenzione. Chiellini. Vai, Chiellini. Mamma mia, il dribbling di Chiellini. Ora Mertens, la palla per Caglione. No, vantare il culo. Caglione. Caglione la passa dietro. Ora la ripassa a Caglione. La palla per... Caglione la ripassa a Caglione. Sì, sì, perché non mannate di Higuaín. Vai, 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 vai. Prendiamo questa palla, Mero. Armero, non vuole... Grazie Armero, grande Armero. Direttamente dallo spaccio della Colombia. Era bamba. Volody non vuole concedere il fallo laterale. È ancora Mertens, che giocatore. Grande acquisto comunque Mertens da parte di Napoli. Chi ti fa Napoli, complimenti. Guarda che culo. Uh, ancora Higuaín. Lo vede? No, fuori poco. Pogba non è inserata, eh. Niente. Oggi il polpo. Niente. Il polpo Pogba. Il polpo Ba. Il polpo Paolo. Il polpo Pogba. Ma il polpo Paolo? Che fino a fa. È morto il polpo Paolo. Non lo sapevi? No. Vabbè, prima o poi deve morire, cioè. Sì, che paradigma. Non c'è stato. No, se entra... Oh, regà, se entrava questa palla, me ne andavo. Guarda pure il fotografo, sei disperato, hai visto? Eh, sì, ho visto, ho visto. Il fotografo da Higua. Dunque, devi dire... Lui si chiama Gba, capito? È polpo Gba. Capito? Sì, sì, ho capito. Oh, mamma mia. Pada, per lo shampoo. Attenzione. Spuma di champagne. Una distilleria dentro alla pancia. Oh, mamma mia, che uno, due. Che uno, due. Mamma mia, ragazzi. Eh, no, vabbè, questa è... Dove sta? Questa è fame. Dove sta? Porca troia. Come dove sta? Ma perché tira caillon, mortacci tua? Olè! Mamma mia! Fernandez! Mi pare giusto, lui si ripallisegna. Mi pare oltre. Ma è intanto, c'era una punizione con... Io si ripallisegno, lui si ripallisegna. Se c'essero, 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 che sarebbe entrato automatica la punizione, perché lo sai che te sono. Va bene, va bene. Invece ho dovuto via a palo. Poi Fernandez, pum... Buffon, prendi di nuovo le farfai. Vabbè, poi andava, anzi. Poi viene un video di 20 minuti. Sta tranquillo, non ti preoccupando, lo si caga, dai. Vai subito. che è Napoli ragazzi ci siamo ripresi dalla botta di quel tiro a porta vuota dichiarazioni da fare che dichiarazioni i dati tre zigli contro tre zigli vai vai subito riparte la riva affamata di gol vuole fare come ha fatto la Fiorentina contro di lei scandalosa 5 minuti dalla Fiorentina e il 4 a 2 ancora al Bion al Bion mi dica che cazzo vedete non fa stronzate guardate come si impegna l'uomo a girare la palla mamma mia papà sei scandaloso Amsic Amsic avanti Amsic di prepotenza mamma mia la palla per Higuaín Higuaín il cross per Mertens Mertens ancora il giochetto ma dov'hai non sai che in difesa è uno dei più forti eh sì è il profi fa in difesa mamma mia ancora ancora in attacco che so carente perché in difesa so non so ma che bello per Mertens 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 ma che ha fatto? ma che cosa ha fatto Buffon? ma che cosa ha fatto Mertens che a porta vuota la mette fuori cioè se è proprio una pippa ancora Higuaín 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 ci va di prepotenza oh e basta oh basta Armero da fuori Mertens l'apertura per Amsic Amsic basta ancora la palla in mezzo per Higuaín perca troia mamma mia oh mi stanno a fare un cazzato giuro sto per spegnare a play il cross Higuaín da fuori mamma mia che traversa ma che è? è handicappati 13 non è FIFA 13 14 però vabbè fa niente handicappati 14 ancora Cajon la palla per Higuaín ma io non ho parole ho tirato subito sta squadra ha vinto due scudetti di fila scusate non so posso fare ancora Mertens il cross per Higuaín ottio centra il pallone quasi più o meno ci voleva provare e ora Vucinic Mirko Vucinic sbaglia così nella mente il passaggio verso gli handicappati proprio e Armero l'apertura per Mertens Mertens ancora per basta mi pare basta fa Pizzul mamma mia arca troia e vai Higler mamma mia oh per cazzo è subito l'apertura per Vucinic che la dà fuori gioco fuori gioco e io non faccio più nulla c'è una gola secca vai questa brucia sta sconfitta ma che mi sta bruciando ma non vedi come sta a vincere mi sta pure oh oddio che giochetto di ma come cazzo hai fatto ma come ha fatto non ci si crede oh che presa a male comunque dai non ti dispiacerebbe se vincessi a Napoli no veramente no cioè veramente si perché io voglio il pareggio ho capito vabbè però tra i due preferisci a Napoli penso almeno credo no no preferisci la Juve non mi cambia niente se vincere Napoli la Juve scusa che mi cambia vabbè questione dei simpatine che me frega io devo vincere lo scudetto non è che dovi devo essere simpatico a qualcuno oh oddio Higuain no 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 oh ancora oh basta questi rimpalli ma è che non sono rimpalli sono contrasti è diverso lo vedi buon rimpallo scuolato c'hai avuto te è anche giusto no ma hai c'ho tanto culo eh bisogna c'è da dillo sì c'hai tanto culo tanto che te sta a far culo vuol dire anche averci tanto culo asamoah asamoah la pasta al centro che cazzo le pappe lunghe guarda qua poi sono io quello che è c'ha culo che cosa ho fatto due passaggi c'è un po' so che ho fatto passaggi che c'è culo uh che scambi qua ragazzi qua fa tutto me dà vantaggio va bene così va bene così maggio il cross in mezzo che cross di merda tevez fuori partire apertura di nuovo per tevez che sta facendo troppo che coglioni oh uh mertens mertens vai in mezzo per amsic porca droga te l'ha fatta una parata meno male perché è insurgito male ma vedi tu quando perdi ovviamente sei sempre a mettere mezza la famiglia non va bene mai fatta non mi ricordo quando non l'hai fatta fernandez non va vattene tevez su va a fa sto go vattene a fa un culo tevez il cross che no ma è naturale che il palo non viene su di me ovvio uh uh ancora vai subito lunga lunga ma no ma no ma no ma non voglio fare questa cosa vabbè non fa niente non fa niente si può recuperare no niente palla la Juve che imposta la manovra è un vital lui la cucina c'è per la Samoa o Samoa qual è il meglio dimmi tu non va si concentra proprio ragazzo guardate sta proprio rosicando cioè non potete guardare però ma io non sto rosicando si stai rosicando stai rosicando ancora uh amsic 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 non va tanto io a partire che è un portanto ho vinto il derby ho vinto il derby ho vinto anche Roma Inter e come l'ho vinta e come l'ho vinta attenzione attenzione eh eh vabbè mi rifarò uh mamma mia che Napoli ragazzi che Napoli mi gusta sto Napoli non avevo mai reso no forse l'ho preso contro la Roma ah si è un'artita sculata due ah si vabbè perché quando vinco io naturalmente è sempre sculata no no perché ha segnato Reina o Reina Reina 87 si è cominciata no ancora ne è cominciata Uplo quanto vuole una partita e sali perché non sovrapponi mamma mia che odio che è schifo io vedi non ci so giocare io so giocare solo caro e una so giocare c'è niente da fare infatti mi ha proposto un Roma Sassuolo però non mi ha accettato anche perché diciamo abbastanza scontata come partita manco il gol della bandiera non c'è niente da fare Amsic apertura per Caglion controlla male la Juve può ripartire ha poco tempo però per segnare la palla per te ottimo pallone per te manco così riesco a segnare questo era un rosso netto proprio vuoi vedere le play? ah è finita manco mai per battere il coso vabbè beh ragazzuole il mio ritorno è stato veramente glorioso con il gol di Amsic al 17esimo minuto questa ragazziglia è bella iscriviti al canale